Buongiorno amici, oggi vi aggiorno in mattinata presto perché sono rimasta colpita anche io da una cosa cioè la definirei quasi la tenelovela delle Canarie che sembra non avere fine come sapete ieri ci siamo lasciati con questa ondata di contentezza perché Torres ha fatto questa svolta unilaterale che ne abbiamo parlato come e perché si è svolta così appunto adesso bastano gli antigeni per entrare alle Canarie, non c'è più bisogno della PCR quindi c'era questo grande grande clima di contentezza perché soprattutto appunto pareva che dovessero arrivare tanti inglesi come sapete inglesi e tedeschi sono i massimi fruitori delle isole Canarie e quindi insomma grande entusiasmo qua pure vedo appunto il personale dell'Osis Duna che pulisce, fa quello quell'altro torno a casa stamattina, accendo Buenos Dias Canarias che è un po' l'uno mattina qua delle Canarie che aggiorna così, fanno quella che chiamano la tertulia della prensa, cioè comunque la rassegna stampa che io amo molto e mi prende un po' un colpo perché a un certo punto vedo il Reino Unido da un golpe al turismo, dico in che senso? In senso buono? Avranno prenotato in massa? E invece no ragazzi, appena appena tirato questo sospiro di sollievo che succede? L'Inghilterra oggi, notizia, ha rimosso le isole Canarie dalle località sicure, dalle destinazioni sicure con semaforo verde, quindi nonostante questa mossa che doveva favorire il turismo in realtà almeno da parte dell'Inghilterra sarà grande il problema perché oltre ad averla rimossa dalle località appunto sicure, ovviamente questo comprende che chi va in vacanza alle Canarie e torna deve fare due settimane di quarantena, per qualunque lavoratore normale questa cosa è invalidante, quindi temo che gli inglesi non verranno in vacanza qua durante le vacanze di Natale se questa cosa non cambia. Sentivo il dibattito in tv e giustamente i giornalisti e i commentatori si chiedevano ma perché? Ma perché visto che sembra appunto un luogo sicuro, Tenerife a parte, dopo vi aggiorno un secondo sulla situazione di Tenerife, perché allora io, e perché non lo so, lungi da me si dibatteva al riguardo, però ditemi la vostra io comincio ad avere un piccolo pensiero, siccome comunque chi più chi meno le economie ne hanno risentito tutte di questa faccenda del Covid, qualunque sia il paese di cui parliamo per quanto le Canarie vivano di turismo, in tutti i paesi il turismo un po' è morto in questo momento. Allora io mi sto chiedendo, ma non è che qua gli stati vogliono un po' tenersi i cittadini a casa? Perché comunque Natale è un momento in cui vuole o non vuole si spende un po' di più, qualcosa in più si fa e forse, forse veramente certi governi vogliono che i cittadini rimangano a spendere a casa loro. Cioè io mi sto cominciando a chiedere se non sia proprio questa anche la ragione per cui il Regno Unito decide improvvisamente di rimuovere le Canarie. Si poteva fare alle brutte, alle brutte è un'eccezione per Tenerife, però se no non si spiega. Quindi questo purtroppo non è per niente una bella notizia, vedremo come va, speriamo anche tanto nei tedeschi, però devo dire che l'Inghilterra ha dato una bella botta con questa cosa. Piccolo, piccolissimo aggiornamento su Tenerife, SIG è in toque de Keda, con questo do un saluto a Davide che mi aveva giustamente fatto notare che toque de Keda proprio letteralmente vuol dire coprifuoco e in effetti sì, Tenerife continua a essere in coprifuoco per una settimana in più, prorogato, perché comunque ragazzi dei 200 circa casi che ci sono alle Canarie, 190 sono a Tenerife, quindi un'incidenza, vabbè, insomma poi a parte questa cosa non corrisponde, di fatto nel TG davano l'86% dei casi canari tutti a Tenerife. Pure lì c'è il dibattito sul perché. Oggi parlavo al bar con una signora Macorera, quella della caffetteria Alpende, e già già la terza persona, Macorera, che un po' sostiene che i tenerfegni sono meno disciplinati e che quindi dipenda da loro questa cosa, perché rispettano meno le misure di sicurezza, eccetera. Io ovviamente non li conosco gli abitanti di Tenerife, non so se questo è vero, ma so che un grande dibattito si è acceso intorno per esempio a una residenza per anziani, c'è la Santa Rita, a parte della Cruz, perché praticamente ha tantissimi casi ogni giorno nuovi, e oltretutto il sindacato di chi ci lavora ha sporto denuncia, perché pare che siano rientrati a lavorare tutti quanti, non avendo aspettato i risultati della PCR, quindi positivi o negativi si è saputo dopo che erano tornati al lavoro queste persone, in più pare che non esistano procedure abbastanza serie per sterilizzare, eccetera, le uniformi e tutto quanto, forse anche le lenzuola, e addirittura viene lamentato il fatto che tutto il personale che non tratta direttamente coi pazienti, quindi chi pulisce le stanze, le OS, eccetera, hanno mascherine di quelle assolutamente non adatte ad uso sanitario o non super sicure, che quindi questo al di là dell'avere a che fare materialmente col paziente nello stesso ambiente lavorativo, praticamente in realtà c'è proprio un buco no nella sicurezza, ora io non ho idea se sia dalla casa di cura che questa cosa si è sparsa, qualcuno sentivo in tv che diceva no no, i numeri si sono alzati così tanto che alla fine sono arrivati all'RSA, questo ovviamente lo capiremo vivendo, nel frattempo io vi terò sempre aggiornati, posso dirvi soltanto che la preoccupazione risale, perché comunque la presenza degli inglesi appunto qua alle Canarie è fondamentale, vediamo un po' come va a parare questa situazione, rimanete connessi e niente, ci sentiamo prestissimo, un abbraccio a tutti!